Allora, passiamo per il vero, ora è il momento della premiazione. La giuria, non fatto il presidente, ma com'è? Mi succedono delle cose strane, perché dopo che c'è stato quell'attacco mediatico di Roma, mi ero girato e ho chiamato il presidente di Roma e ha detto, voglio la cittadinanza a Roma. E mi ha detto, al massimo ti diamo una robot, ma il 26 ottobre era il primo attore a cui verrà consegnato il secondo passaporto da Roma, così mia madre lassù sarà contenta della profezia perché mi diceva, vai a fare l'attore, finirai zingaro, ecco, ma... Allora, la giuria, il presidente sono io, ma ci sono tanti con questo nome. Arnoldo Musca Mondadori, Damiano Spetta, Giampiero Savuto, Salvatore Mattoli, Paolo Chibinti, Nazario D'Urso, la giuria, l'autore della contribuazione, non solo io, perché è presidente di queste cose, le delega, testo di saluto, musica di John Cage, perché non c'è, John Cage che ho fatto un disco in tre minuti in silenzio, ma vabbè, sono cose che stanno in intellettuale, di sinistra. Allora, leggo la motivazione, marchiamo sul parco perché ci deve essere il ritmo teatrale nelle premiazioni e quindi la consegna del premio non va fatta a cinque minuti dopo la fine, quello che abbiamo finito di leggere. chiamo sul parco Giampiero Savuto e Paolo Chibinti. Buon ritmo per favore perché il finale non si può andare in minore, in levare e in maggiore, grazie. Leggo la motivazione, ok. Faccio di diaframo. Un personaggio eccentrico, fuori dal coro, creativamente alternativo, fantasiosamente bizzarro, è capace di calarsi nella realtà con concretezza ed è anche una donna, c'è qualcosa che non va. Ama giocare come un bambino, fantasticare come un adolescente, inventare come un poeta, progettare come un architetto, ragionare come un imprenditore, recitare come un attore, dirigere come un regista ed è anche una donna, c'è qualcosa che non va. Amma il rischio, aspira a mete impossibili, non vuole smettere di sognare ed è anche una donna, c'è qualcosa che non va. Per le ragioni suddette, per le ragioni suddette e soprattutto perché c'è qualcosa che non va, conferiamo ad André Ruzzi-Chaman il titolo di Marto per l'anno. Grazie. Applausi. Allora, la verità è che io di solito do il benvenuto alle iniziative che avvengono in questo quadrilatero. In particolare avrei dato altro che il benvenuto a un'iniziativa che ho seguito dall'inizio, dove c'è quel porto Giampiero Saluto, dove ci sei tutto, cioè sarei venuta, ma essendo che nella mia grazia sto sempre lavorando, o perlomeno prendo male cinque settimane. Voglio dire che mi ero seduta qua e mi sentivo un po' in colpa che non avevo dato il benvenuto e stavo parlando anche di questo momento. Però è una donna, è una donna, è una donna qui, avevo indovinato mentre stavi facendo la... La lettura del... Allora, io non vorrei scherzare, io considero un grandissimo onore questo premio, veramente. Uno perché io sono pochissimo premiata. Credo che una volta Franco Quadri mi ha dato un piccolo premio per non essere mai stata segnalata al premio V. No, vero, non sono mai stata segnalata. No, lo dico molto seriamente e considero che la spiegazione di perché non ho avuto altri premi è proprio il premio che mi date oggi. Nel senso che evidentemente il mio modo di stare a fondo non corrisponde con i canoni che per cui si prendono i premi. Dunque sicuramente avete beccato, cioè mi avete toccato perché capisco tutto. Nel senso che veramente, a parte che non voglio rinunciare a sognare e poi insomma anche il fatto che i miei sogni voglio che siano sogni per tutti è un'altra... Signora qui balla tutto. Allora, voglio essere seria, vorrei cambiare questo il tono scherzoso che usa lui e dire che vi ringrazio veramente perché io non ricevo premio e questo è forse il primo premio che io... però vorrei riceverlo non come matto dell'anno, ma come alla carriera perché io considero di essere, cioè non quest'anno matta, ma da tanto tempo, con tutto i 70 anni qualche tempo fa, e lo so la matta dell'anno. Allora, voglio dire che questo è completa la carriera e possiamo ancora dare un premio all'anno. Cioè, c'è libero la premiazione del matto dell'anno. No, no, quest'anno... se voi ne lo date, allora faccio subito la realista che non mi conosce. Allora, io ho preso il premio alla carriera. La giuria, sempre nel 18, può fare un premio un altro matto dell'anno. Se io sono... possiamo decidere un altro matto. Allora, tra i matti dell'anno, il matto vero dell'anno, questo qua... ... Grazie.